La provincia di Teramo e la Commissione Pari Opportunità, in collaborazione con la CPO dell'Ordine degli Architetti, pianificatore, paesaggisti e conservatori della Fondazione Tercas dell'Università San Raffaele di Roma, hanno presentato iniziative che a partire dall'8 marzo celebreranno la ricorrenza della giornata internazionale della donna. La Commissione Pari Opportunità della provincia di Teramo, in occasione dell'8 marzo, che poi è la giornata internazionale delle donne, dove si festeggiano le conquiste sociali, civili e politiche delle donne, ha inteso organizzare due manifestazioni, due iniziative, che hanno lo stesso comune denominatore, la bellezza, l'arte e la cultura. Partiamo giovedì, 7 marzo, nei saloni del Palazzo Melatino, dove è la sede della Fondazione Tercas, con un quadro prestigioso del Seicento, che racconta la storia di Giuditta e Oloferne. Giuditta tagliò la testa a Oloferne per salvare il suo popolo e quindi ci interrogheremo se Giuditta sia stata un'eroina o un'assassina senza scrupoli. L'8 marzo, invece, saremo qui in provincia, nella sala provinciale del Consiglio, e ricorderemo la figura di Eileen Gray, che è stata un'architetta del Novecento, quindi parleremo di architettura al femminile. Lei è un irlandese, ci sarà anche della musica irlandese da ascoltare, e lo abbiamo fatto in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità dell'Ordine degli Architetti di Teramo. E ci è sembrato giusto fare un focus sull'architettura in questo momento che il nostro territorio va ricostruito, ripensato urbanisticamente, perché vogliamo dire che in provincia di Teramo ci sono delle eccellenze incredibili, delle professioniste architetto, raffinatissime, che possono e potranno dire la loro sulla ricostruzione. Grazie. 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 Grazie.